Grazie, Daniela. Grazie, tesorino. Ciao, ciao. Stai all'ombra, mi raccomando, eh? Antonio, buongiorno. Come stai? Come va con questo caldo? Credo, ci credo, Massimo, Madonna. Come usciamo da questo estate? Non lo so. E sono contenta? Non tanto. Perché? Gabriele, ce facci? Ma così? Queste giornate così calde, stancante. Santo, smettila, santo. Sì, ma io non posso leggere o scrivere in privato, Antonio. Sono in live, capito? Devo interagire qui con la gente. Capito? Sì. 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 Gabriele, ce fai Gabriele? Ciao Tommi, come stai? Rappano, ciao tesoro, come stai? Grazie a tutti. Grazie tesoro. Grazie a tutti. 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 Ciao Daniele, come stai? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.